Siamo lieti di poter supportare l'evento che si svolgerà il 7 maggio, un evento con lo scopo di sensibilizzare quello che è la sicurezza stradale, che non è solamente verso gli utenti parte attiva con i cicli, ma anche chi proprio è parte attiva anche come automobilista. Era nostro anche dovere dare un supporto a questa idea che è nata dai forzati del pedale, quindi ci fa piacere poter collaborare.